Amici Youtube, Beppino Audacia ragazzi, quinto episodio con Darem, il Toro Cast, si continua carriera Toro Ragazzi, terzo posto attualmente per il Toro, 29 punti, Ivantus e Napoli in testa alla classifica Andiamo avanti con Toro Atalanta Sì, Toro Atalanta Vediamo se gioca Vanya Facciano giocare Radunic Gioca Facciamo anche Temba Sec Facciamo anche Soppi Facciamo riposare Bellanova ragazzi, facciamo giocare Soppi Facciamo riposare Bellanova Gioca veramente sempre Fuori anche Pinamonti La fine ragazzi, ballottaggio tra Savic e Pepino Audace Ha vinto ancora Pepino Audace Ragazzi, si gioca all'Olimpico per Toro Atalanta È iniziata Lukman Scamac Vediamo se riusciamo a portare Lukman al Toro il prossimo anno Rasinac Derun Attenzione, Zapata Zapata che è un ex Ederson Derun Scamac Ragazzi Illich Rodríguez Toro che ha perso col Sassuolo Ricci in casa Scicca Mamma mia che sterzata di Schurz Mamma mia, poi a Teburro Tutto di là per l'Atalanta Rodríguez In mezzo Poi buongiorno Zapata Mamma mia che partita di Zapata Attenzione, è pronto Duanino Calcio di rigore Calcio di rigore per il Toro Ammonito Con la Sinac Non ho erato Noi Potrebbe essere il prossimo dimensione del Toro Toloi E spaglia Zapata Il Toro che sta arrabbiato Zapata ragazzi Sbaglia il rigore Assurdo Si parte da carne secchi Lucman Scicca Bella per Ricci Poi Toloi Verun La Toro ha bisogno di vittoria Bella Lucman 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 Audace E poi E poi Vlasic Audace Ricci Ederson Attenzione Balla per Scamac Gran goal Questo 1-0 Per l'Atalanta Ragazzi Gran goal di Scamac L'entrata Capradossi pure Radunic Soppi Zappagosta Ragazzi Zappagosta D'altro un ex Lucman Meglio adesso L'Atalanta Chiude Vemmina Audace Rimette Lì Portiere Granata Ragazzi Zici Fuori Audace Schurz Rodriguez Bella In mezzo Attenzione Palla per Schick Patrick Schick 1-0 Per 1 pari Con Super Schick Gran Giolatore Questo Ma Prende anche Il palo Scamacca Vediamo se riusciamo Anche a portare Scamacca Al toro Prossima stagione Magari Pasalic Derun Mamma mia Che partita Di Patrick Schick Scamacca Scamaccone Poi Duvan Ricci Per Soppi L'ex Atalanta Udinese Soppi 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 Scamacca Meglio Con la Sinac Soppi La partita Più Combattuta Palla per Lukman 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 Zappa 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 In mezzo Pasalic Tu Un'Atalanta Pasalic Ragazzi Il toro In questo momento O è stanca È possibile C'è anche lo spezia Da passare in Coppa Italia Schurz Radunisch Vra a metterla Toloi Che partita Di Toloi Soppi Zappa Zappa Pasalic 32esimo Toro Che rischia Lukman Driguez Ricci Ilic Duvan Bella Per la Patrick Schick Che sta giocando Una partita Prova Schick Carne secchi Calcio d'angolo Meglio il toro Radunisch Prova a metterla In mezzo Poi con la Sinac Alta Palla per il capitano Rodriguez Balla per Zapata Tuvan Zapata Due pari Grande assist Di Rodriguez Vediamo il gol E' bello il gol Ragazzi Due pari Trattore Atalanta Scamacca Attenzione Ancora Rodriguez Ederson E' run Attenzione Scamacca E' c'è ancora Scamacca Mamma mia Come gioca L'Atalanta Ragazzi Come gioca Radunisch Ricci Schick Sopi Eh ragazzi Il toro Rischia seriamente Di perderla Questa partita Ricci Atalanta Con Scamacca Lukman Molto pericolosa Scamacca Contro Contro Buongiorno Poi Schurz Ricci Radunisch Ancora Radunisch Che giocatore Radunisch Poi Ederson Mamma E non si capisce Più niente Solo Atalanta Adesso Il toro Che continuano a sbagliare A te burro Occhio C'è Ilic Lukman Lukman Occhio Scamacca Audace Primo tempo Ragazzi Primo tempo Strepitoso Da parte dell'Atalanta Il toro Non dà meno Zappa Pasalic Audace Primo tempo Tostissimo Per Pepino A caccia di un gol Zoppi Schick Meglio Attenzione Occhio E finisce il primo tempo Ragazzi Serve Pina Monti Serve Pina Monti Là davanti Sesso palla Radunic Vlasic Mamma mia Vlasic Ragazzi Che giocatore Vlasic Carnesecchi Bravo Carnesecchi Gran partita La sua Stato vicino Al toro Carnesecchi Lukman 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 In mezzo E poi Scamacca 4-2 Atalanta Ragazzi Atalanta Quando è in giornata È difficile Batterla Lukman Radunic Vlasic Vlasic Tripletta di Scamacca Mamma mia Vagini Asio Palla fuori Cosa il toro Utilizza qualche Cambio Schick Radunic Carnesecchi Cosa ha preso Calcio d'angolo Radunic Rafa 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 Ancora Atalanta Che gioca Nettamente Meglio Rispetto a un toro Magari anche stanco La prossima Col Milan Lukman Scamacca Attenzione Ancora Lukman Pasalic Meglio Attenzione però All'Atalanta Perché Vlasic C'è un Daraem In panchina Molto arrabbiato Radunic 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 Carne secchi Ragazzi Carne secchi Una partita Strepitosa Schurz Ci prova Inias Con la Sinac Vediamo il toro Se cambia qualcosa Allora Fuori Vlasic Pinamonti Gioca davanti Radunic Rimane lì Scamacca Gioca entra Anche Bellanova Dall'altro Lato Mamma mia Bravo Pepino Audace Una partita Buona La sua Radunic Zapata Per Vlasic Vlasic Sione Vlasic Vlasic Per Zapata Per Poi carne secchi Sopì Calcio di punizione Per il toro Ragazzi Vediamo È giallo Per Zappacosta Fuori Vlasic Dentro Pinamonti Attenzione Anche Pepino Audace Ce l'ha Il tiro Da fuori Prova Col destro Carne secchi Debole E comunque Non gli ha Tirata male Pinamonti Bella Per Radunic Attenzione Adesso Alla Toro Tiene Radunic Con La Zinac De Ketteler Appena Entrato De Ketteler Che partita Di De Ketteler Appena Entrato Buongiorno Attenzione Lunga 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 Attenzione Rimessa Toro Ricci Mamma mia Schurz Ragazzi È Inguardabile Schurz Inguardabile Schurz Ragazzi Che lui Mamma mia Sono Atalanta Adesso Fa Difficoltà Il Toro Buongiorno Mamma mia Buongiorno Ragazzi Che giocatore Poi Sopì Schicco Bella L'ha tagliata L'ha tagliata Ma Mamma mia Toloi Ragazzi Difensore Incredibile Ignacio Zappacoste Eh vabbè Ma questa La vince Atalanta Lukman Lukman Bella Per la Scamacca Schurz Ilice Rafa Meglio Poi Schurz Bravo Da terra Poi Pinamonti Scicca Per Duvan 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 Meglio 4 a 3 Almeno Cercare Un punto In casa Contro Atalanta Vediamo se Riusciamo a fare Entrare Bella Nuova Fuori Sopì Dentro Bella Nuova Dentro Anche Pellegri Fuori Zapata Per entrare Appena Segnato Duvan Doppietta La sua Ecchia squadra Fuori Due Ex Atalanta Lukman Sopinamonti Prima Punta Pepino Audace Ragazzi Si applaude In maratona Per Il numero Uno Del toro Pasalic Eh ragazzi Ha data Troppo lunga Rimessa Atalanta No Rimessa Toro Non so come Ma rimessa Toro Radunic Rafa Attenzione All'Atalanta Che le prova Tutte Per vincerla Rafa Brava Pasalic Pepino E poi Lukman Guarda Fuori Gioco Attenzione Però All'Atalanta Ilic Pellegri Radunic Grande palla Di Radunic Pasalic Ah in mezzo Radunic 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 Meglio Ragazzi Questa partita Del toro La deve Per forza Perdere Uh Ricci Eh però ragazzi Ancora Angolo Si è entrato Nel novantesimo Adesso 4-3 Risultato Ignacio Rafa Audace Meglio Eh però È ancora Angolo Ragazzi Oramai Finisce con La vittoria Dell'Atalanta L'Atalanta Superiore Questo l'abbiamo Visto Ah È finita È finita Ragazzi Vincere l'Atalanta Per 4-3 Ragazzi Il toro Non demorde 4 gol Di Scamacca Un grande toro Ragazzi Ha lottato Come sempre Ma non ne basta Seconda sconfitta Per il toro Dopo quella Contro Terza In totale Si gioca In Coppa Italia Poi Frosinore Poi Sì Allora ragazzi, gioca Lazzaro Lazic Gioca Linetti Gioca Radulic Si gioca sempre in casa Poi si va a Frosinone ragazzi Toro Non ha perso la voglia di vincere però Cic, Vlasic Bella nuova Bella nuova per Vlasic 1-0 Rete di Nicola Vlasic Gioca Lazzaro oggi Un toro totalmente diverso in Coppa Italia Torna Buongiorno capitano ragazzi Alessandro buongiorno Lasic Cic Mulla Verde contro Tensione contro Lazzaro Cic Uh Verde ci ha provato Adunic Adunic Cic Plazzic Plazzic Scontivo Scontivo Tamez Cic Mamma mia Serp Poi Rezza Finisce 1-0 Passa il toro Vanno Al prossimo turno Di Coppa Italia Meno un toro Che passa Un turno Non subendo Neanche gol Adesso La Frosinone Toro Quinta Sassuolo Quarta Zona Comunque Europa Rimane Ricci Allione Sì Samuel Ricci Rimane E' preso solo Mandragola Sono in caso Di Cic Ragazzi il toro Gioca lo stirpe Contro il Frosinone Dicesima giornata Frosinone Vuole cercare di andare In Europa Ci prova lo stirpe Zapata Scic Coravlasic Calcio di rigore Calcio di rigore Calcio di rigore Ragazzi Zapata 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 Zapatone 1-0 Per il toro Ancora Avlasic Pinamonti 2-0 Per il toro Ragazzi Pinamonti Torna il gol Torna il gol Pinamonti Occhia il Frosinone Ragazzi Provali Provali Ilic Ilic Cic 26esimo Oh Ci ha provato Attenzione Ancora il toro Grande palla di Pinamonti Attenzione Attenzione Pinamonti Attenzione Pina Bellanova Pina Schick Gersinio Rigore Per il Frosinone Attenzione Lex Lex Bari Controvvino Audace Lo beffa Lo beffa 2-1 Frosinone Frosinone Vlasic C'ha provato Rigore Per il toro E mi sa che c'era proprio Pepino Audace Stavolta Traversa Entrambi i portieri Sbagliano Vlasic Mamma mia Ragazzi Vicino al 3-1 Il toro Vincio Unco 2-1 Ritorna La vittoria La squadra Di Daraem Daraem Ed Daraem Daraem a io e e e Toro Empoli ragazzi Toro secondo La UE inizia ad essere però L'avversaria tosta Eh la Norvegia lo vuole Adara em Toro Empoli Gioca Radunic Si gioca Zima Torna Savic tra i pali No resta audace ragazzi Savic Ha un po' in questo momento Il portiere B Della Toro Sedicesima giornata Del Toro comunque rimane Secondo in classifica Giavonti Ricci Radunic Gioca Toro ragazzi Radunic Radunic Palo Salva forse Caprile Zapata Palo Due legni il Toro Prenda in due minuti Prova Ricci Bariscia Un ex Due legni del Toro Cancellieri Pino Attenzione all'Empoli Perché ragazzi Può passare in vantaggio Occhio Baldanzi Zima Cacace Gran partita Rassi Inceglieri Radunic L'Uperto Gran partita Dell'Empoli Unizione Toro Periscia Radunic Piramonti Zero 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 Con l'Empoli Ah un Darae Mi ha arrabbiato Perché Vede il suo Toro Uscire Contro l'Empoli Pareggiare Toro Udinese Ragazzi Toro Quarta Comunque Naviga Quella zona Champions Facciamo l'ultima Ragazzi Ultima Per questo Quinto episodio Già Settesimo Ragazzi Toro Udinese Toro Rimane Quarto In classifica Zona Zona Ovunque Importante Per andare In Champions Zafata Chic Missione Toro Subito Occhio Occhio in mezzo Silvestri Occhio in mezzo Silvestri piramonti onnaggia pauric le feo dovrà a presto un conto becca più gol in casa la partita contro l'atalanta sapata mamma mia peccato qua l'udinese è brava oi 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 brenner dove le feo dove le feo oh sec 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 pinamonti 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 ragazzi che giocatore pinamonti gol nel derby attualmente un sacco di gol quest'anno con la mano del toro bravo sec però ci prova l'udinese il toro trova il vantaggio ragazzi vantaggio che fa bene brenner mamma mia brenner brenner che partita di rodriguez grande partita di vlasic attenzione vlasic 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 silvestri calcio d'angolo gran partita vince il toro e torna a vincere in casa silvestri arrabbiato ragazzi il toro torna di muovoli a rinchiare per le prime zone della classifica con un super pinamonti patrick chic in difficoltà allora finisce questo quinto episodio prossimo episodio fiorentina toro ragazzi tutto per la champions league e allora bella a tutti papina audace e ci vediamo per il sesto episodio